Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video, come ci sono sempre le solite persone, cioè io è il profettario Ciao a tutti ragazzi, ciao ragazzi, ciao E sveglio stavolta, solo che sto facendo altro Ma stiamo parlando degli RC, per quello lo volevo qua, anche perché gli RC sono un po' Una cosa che è un po' schippato ovviamente nei video, perché non c'avevo il PC ma non li ho seguiti nemmeno io in primis Soprattutto Manigoldo, cioè Manigoldo non ho veramente idea di che cazzo gli hanno fatto come RC Diciamola tutta, non avevi neanche l'RC No, Manigoldo infatti non ce l'ho, ho un pezzo, Pandora l'ho finita, la vedete qui a Yachtiva Sì, ma l'hai finita ieri E niente, deve sempre puntualizzare E parlando invece, che poi uscirà a saga, per quello che mi sono venuti in mente, me ne avete chiesti voi nei commenti Io ascolto, per le comp, ho già parlato con ieri, le registrano stasera, quindi tranquilli, la cosa è le facciamo Adesso però, partendo da iRC, la prima che in ordine cronologico non avevamo fatto è Pandora Ora, Pandorinia, da quello che ho visto, mi ha detto soprattutto ieri, infatti ho detto non mi ha detto soprattutto ieri, è tornata prepotentemente in realtà, sembra male Ha avuto la sua settimana davvero da PG più forte del gioco Oh, vedi, Dario ce l'ha visto lungo allora Cioè, il meme era diventato realtà Sì, godo Finalmente il PG trova un po' di senso, perché purtroppo era veramente nata morta L'unica cosa che vi voglio dire, non parleremo di Shura al momento, proprio perché parliamo di tante cose Voglio vederlo per bene in game, lui ce l'ho finito Quindi lo portiamo probabilmente o per sabato o settimana prossima a Shura Per quanto riguarda invece la marescialla, ne parliamo unicamente Poi tanto i video del PvP con le comp usciranno e vedete questi RC Probabilmente solo Manigold avrà bisogno di un video un po' apposito Perché da quello che mi hanno detto, ma ho anche visto, Manigold RC non si gioca Questo mi preoccupa, perché un RC che non lo fa nemmeno giocare quando esce su RC È preoccupante, o l'hanno sbagliato totalmente o qualcosa comunque non va È successo con pochi personaggi È molto pochi, è questo che mi preoccupa anche perché Manigold non è che era un bidone quando era uscito Cioè è stato comunque un buon PG per un bel po', quindi che si è totalmente morto Oh, Manigold, quando mi ha smesso di fare per il tuo computer rotto, non dico che fosse ancora quasi giocato No, no, lo era, per quello dico mi fa stranissimo questa situazione adesso del tuo RC Eh, però sai cosa Dario, nel frattempo sono usciti degli altri personaggi Manigold fa le stesse cose che faceva prima, né più né meno E i personaggi che sono usciti adesso le fanno meglio A Yoma che fa molto più danno di lui Comunque a Oe Ho perduto male dell'RC Eh, perché all'RC gli bastava dare Non è che gli servisse tisa quanta roba per essere buono, eh Ma alla fine Manigold era immune, danno Oe e cura Sono tre cose che fa Yoma meglio di lui Sì, però banalmente, se facevano Io adesso, ripeto, non l'ho visto nel RC di Manigold Però io personalmente che avrei fatto? Avrei fatto un RC all'Orfeo Cioè che al posto di dover attivare la skill di immunità e di attivazione delle soul Fosse già attiva inizio battaglia Banalmente, così era già immune Già le soul in giro Potevi già muoverti E poi qualche aggiustatina alle percentuali Non è che gli servisse altro O no? L'idea che c'era la base era anche carina E poi quando lo vedremo vi dirò la mia Cioè vi dirò il motivo per il quale secondo me non è andato Secondo magari i loro piani Partiamo da Pandora, dai, allora La signorina, la prima parte come vedete è rimasta uguale Fino allo 0,75% Quindi questo pari pari Poi guadagna un piccolo papiro Perché quando Pandora muore Quella consuma il 50% delle sue stack E ritorna in vita praticamente Ricopera il 30% dei suoi HP massimi E cura se stessa Un per cento garantisce Ha uno scudo del 5% Quindi scuda parecchio quando muore insomma Quando muore fa uno scudo enorme E beh ci sta 5% È tanto Stalk for one round Quando quindi rimuore per la prima volta Non consuma i serpenti Questa cosa è molto buona Allora Quando dici stacco di serpente Questa può triggurare due volte a battaglia Quindi può ritornare in vita due volte Nell'arco della battaglia Tre volte con un dragon Ok, tre volte con un dragon Però Nello stesso turno una volta sola Nello stesso turno una sola volta E in più In realtà La vera modifica Che rende forte 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 questo PG A partire va È scritta sopra Quando specifica Che adesso Per ogni azione I PG prendono due stack Di queste ghost serp Mentre prima ne prendeva una Ah, era una Che incrementano Attacco fisico e cosmico Dell'1,5% Per azione Che è tanto È veramente tanto Quindi Infatti si sono alzati Anche i danni al boss Si alzano i danni al boss E in più Già testato Perché io non ho di meglio da fare Della mia vita Che testare Pandora Praticamente Quando lei muore La prima volta Non consuma Nessuna stack Che avete accumulato Se muore la seconda volta Le stack Vengono Ah, c'è scritto questo Però c'è un piccolo bug Non so se sia un bug Se è inteso in quella maniera Se avete il dragon E lei muore Perché si attiva il dragon Prima Vi considera quella Prima morte Come quella diciamo Gratis Quindi le altre due Che farete Quelle che invece Vengono dal suo riperclot Dimezzeranno le stack E questo però Capitava con molti personaggi Questa cosa del dragon Che infatti Per me è un cosmo morto E rimorto È proprio per quello Bug a parecchi personaggi Effettivamente Non so se è un bug Perché Tecnicamente Ha ragione E so così Cioè nel senso Quando muore Indipendente che muoia Di abilità Che si attiva il dragon Lei la prima volta Non vi consuma stack Si mette con lo scudo Allucinante E poi Quando lo farà di nuovo Vedrete che le stack totali Che lei distribuisce A tutto il team Vengono dimezzate Quindi perderete un po' Di attacco Però Niente di grave Comunque Hai visto l'incremento di stack Direi che quindi Anche lo scudo Che mette a fine turno È bello ciccione Direi Al primo turno A fine T1 Non tanto Cioè inizio T2 Non tanto Si vede dopo Diventa imbarazzante La cosa più imbarazzante È lo scudo Che mette Quando muore Eh sì Perché 5% Non fottidio Cioè 5% Per ogni serpente È Sì sì La stack è terrificante Cioè enorme Ti diventa quasi Tutto il team In Moktali Quindi A volte capita Che magari Non lo dice No no Prima di ammazzare Quel personaggio Lei sta per morire Ammazzo prima lei Così le triggero La prima diciamo vita E poi ti ritrovi Col PG Che avresti dovuto ammazzare Full scudo È praticamente impossibile La buttare giù Forse lo butti giù Con un doppio succhio In brillo Ma lei cos'è Va cosmarata Full HP Non fa Non serve niente altro Eh però lei Diciamo Quindi anche Ci attacca lei Eh che fa Fa anche bei danni Allora ragazzi Eh infatti Questa è una cosa Che volevo dire Questa qui Ora oggi Più delle volte Si gioca un po' Tankosa Mele White Mist Però Con un qualsiasi Cosmo di penetrazione A T2 Pine T2 Inizio di T3 Tira delle sberle A tua Cioè fa veramente Tanti 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 danni Io i grossi su di lei Li metto offensivi Eh io pure ricordo Di avere gli offensivi Su di lei Allora adesso Eh Lei mi pare no? Sì L'unica cosa Che ha portato Tre virgolette In negativo È che la skill riparata È la skill 4 Che era quella Che si poteva lasciare E basta prima Adesso Per essere giocabile È diventata davvero Full 5 Io ce l'ho a 4 Sì infatti Ce l'ho a 4 Con due copie Esatto E li vale Assolutamente a 5 E li vale tutti Perché è assolutamente Un personaggio a meta Sì che però Perché a pochi tomi Non è un pg facile Da fare Vabbè stack Fino a 300 Sì Eh sì Eh sì È vero E prima si poteva Tenere basta Perché tanto Non arrivavi A fare tutte quelle stack Adesso con le stack In doppio Vivi tranquillamente Fai tutto Poi vuoi La meccanica completa Credo È fortissimo Eh ci sta È un bel rc È vissata così Eh sì È reincarnato Cosa è successo Quei le vissata È reincarnato È reincarnation Vedo che anche di stats Comunque le rc Non gli è andate poche Eh Penso che comunque Si giochi come prima Cioè Non si gioca veloce Full HP Full C attack Resistenza È più non posso Non penso Esatto Eh sì Non è più o meno Poi il centrale È una scelta personale C'è chi la gioca in Dragon Ed effettivamente È molto irritante Doveva tirare giù Tre volte Eh quello sì Perché guadagna una vita Quindi comunque è buono In quel caso Cioè è vero che non Triggera la cosa gratis Però minchiai tre vite E OP Sì 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 È molto forte È una di colpiggio Eh sì ci sta Mentre Andiamo a vedere L'altro signorotto Che appunto Sembra essere Totalmente useless Eccolo qui Il signorotto Mi piange il cuore Vabbè tanto c'è C'è Sage Che resta il cavaliere Più forte Ah e poi Lo registriamo subito Dopo ve lo dico O Neiros Si becca un video a parte Perché devo capire Come si chiama Perché nel senso Fortis Ma no ma lo facciamo veloce Dici Io ho visto che è un papiro Mi sono fermato a quello Sì ma Mettiamo il prof In modalità Adorno della sintesi Quindi da 30 minuti A 20 minuti A me va bene A me va bene Allora Vanigoldo intanto Viene cambiata la skill da 3 E diventa 2 Già È una cosa Ok Poi però Che gli cambiamo 1500 L'energy cost E riduce di 1 Ok Quindi pure questa Attrac Scala Inerziamo il danno E innanzitutto Le cure Ma arriva a costare 1 Sta skill O è questo 1 È inteso con questo 2 Che è già compare qua No 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 È già incluso Diciamo nello sconto Quindi passa da 3 A 2 Che cacata Vabbè Ogni detonazione Locca al 10% Della massima vita Dell'op Mamma mia Sarà troppo 10% Incredibile Locca Perché non vi recopere No Finito Sì Allora Praticamente Quello che gli hanno fatto È questo Loro Perché poi bisogna sempre Cercare L'esercizio Sarebbe quello Di provare a capire Dove volevano andare a parare Con questo Ripper Cloth Cosa gli volevano dare Quindi loro dicono Ma non è Ricordiamo Sì Paradossalmente Tu lo percepisci Come un nerf Perché loro dicono Voglio garantirti La possibilità Di sparare Più tranquillamente Perché adesso Quando fai detonare Quelle sfere Hai l'effetto aggiuntivo Del blocco degli HP Quindi loro dicono Lo passiamo da 3 A 2 Perfetto Bellissimo Però dicono Siccome adesso Sparare Diventa molto più facile Per te Lo andiamo a nerfare Un pochino Quindi gli hanno ridotto Il danno del 5% Le cure Se non ricordo male Anche del 5% Sì sì Tutto 5% in meno E quando detonano Le sfere Gli hanno tolto Un ulteriore 5% Quindi diventa Un totale di 15% In meno Per le sfere Se ne fai esplodere 3 Più il 5% Cioè Gli hanno nerfato Il danno E diciamo la verità Un pochino Un pochino Si sente anche Perché questo è un PG Non funziona Con tanti HP Per darti cosa In cambio La loro grande idea Era quella Loro dicono Però Siccome lui comunque È un anti-healing Di natura Quindi già di base La sua abilità Riduce le cure In campo Dice che blocca Io l'ho tostato Miliardi di volte Questo fatto La prima volta Che l'ho letto Pensavo Oh mio Dio Counter definitivo Di per sé No L'unica roba Che fa È che prende Massimo Quindi non si può Accumulare la skill 3 sfere Significa Massimo Ti blocca Il 30% Degli HP Massimi E quegli HP Li puoi dimenticare Come se il personaggio Non li abbia Quindi non possono essere curati E infatti dice Vengono considerati Come persi Il trucco Il problema È che prima di tutto Non è permanente Dura due round Quindi tu devi provare A detonare Almeno ogni due round Queste 3 sfere Per mantenere costante Questo debuff E poi in realtà In un meta In cui c'è Shure Che ti riempie di danni Per sefone Che comunque Continua a prendere HP Perché il fatto Che lei Abbia un 30% Bloccato Non significa Che non possa Continuare però A prendere HP Dall'oppo Lo rende Senza Né sale Né Dici Ok Ha questo effetto Aggiuntivo Che si sente Un pochino Perché comunque Il 30% È abbastanza Ma non gli fa fare Quel salto di qualità Che dice Ok adesso me lo porto E fa la differenza Lo stanno utilizzando Un pochino con Shaka Sto vedendo Perché comunque È una OE È un personaggio Che si gioca Abbastanza veloce Ti consente Quando fa la OE A inizio round Di attivare Di Shaka Meglio Quindi sì C'è un po' di combo Spara da due Molto più facilmente Quindi se tu A T1 Paradossalmente Hai già qualcuno Tipo un Deuteros Che ti fa già una OE Tu potresti anche Considerare a T1 Di sparare da due Direttamente Per fare danni E curarti Però quel nerf Al danno Secondo me È un po' Inspiegabile Non capisco Il perché Nerfare il danno E le cure E l'effetto Aggiuntivo Del blocco Degli HP Non è tutta Questa grande Rivelazione Secondo me Si sta giocando Tanto con Shaka Ma solo per il discorso Che è immune Immune Bravo Non l'avremmo più rivisto Però lo attiva anche Capisci Quello è molto comodo In effetti Avere a T2 Qualcuno che parte Prima di tutti Con quella OE Sulle sfere Che hai messo Quindi matematicamente Una PG L'hai messa Ti garantisce Che poi Shaka Parta a ripetizione Con il suo O inizio T2 Quindi sì È comodo Forse Il senso Era anche quello Non so Però Come Ripper Claude Non è funzionale Come quello di Pandora Che prende un PG Nell'ombra E te lo fa Te lo lancia meta Lui È già fortino di suo Si utilizza Di tanto in tanto Però diciamo Che Ripper Claude Non gli fa fare Questo grande salto Di qualità Devo essere onesto A me Più che un buff Sembra comunque Un nerf Io ho una teoria Sulla 10% 30% Ok Effettivamente È tanto Ve lo concedo Perché non lo posso Non recuperare L'unico Tanto È quel male In meno Esatto È l'unico Verrà Cambiamento Positivo È il costo Che se invece Questo Energy 1 Era riapplicabile A quella E quindi diventava Una skill da 1 Era pure decente Come RC Ma così Ragazzi È chiaro che hanno Un problema Con questo segno Perché Non ricordo Di altri Ripper Claude Nerfati Ma per fortuna Ci stanno regalando Death Mask DC Penso superi In potenza Qualsiasi altro Brobrio Fatto in questo gioco Prima d'ora Il premio Il premio di PG Più scarso Che Io non ci credo Che è scacco Come è stata Le ultime cose Io non ci credo Mai Non fa Niente Non fa Non lette le cose Non ci credo Voglio vederlo in game Non ci credo Non fa niente Non è possibile Diceva Ma è un PG Per balene Sbaglia Perché Vabbè Comunque ragazzi È palesemente Un odio viscerale Verso il segno Del cancro Il segno Del leone In questo gioco Non è possibile Assolutamente Ma noi abbiamo Sage Quindi siamo tranquilli Perché c'è lui C'è sperato Non si può No Comunque invece Ditemi un po' Sto schifo Visto che dite Che si può fare velocemente Io un po' Questo schifo In realtà è molto forte Il replay È stato molto sottovalutato Non è uno schifo Nel senso che sia scarso È uno schifo Perché rompi coglioni No È uno schifo È un PG schifo Proprio C'è il PG più schifoso Che c'è Io odio Anche io lo odio Però Il replay Adesso Se vuoi leggere la skin Nel dettaglio Allora Quando Il first dream Prende un target Che quindi è stata Cambiata la passiva Comunque Cioè E prende 8% Di HP massimo Per un turno Per 10 stack Questo è nuovo Direi comunque Sì Perché qua È molto diverso Sì Quindi Quando due target Sono simultaneamente Puoi mettere due target Nel dream E finalmente L'hanno capito Direttamente Oneros Riceva il 50% Di increase Dell'healing Non poteva essere The major d'action No No Healing Quando attacca E lo so Però Quando due target Con 60% Prende un attacco Non puoi cedere Il 30% Degli due massimi HP Ci sta Questo È un buon Catto Ogni round Prima volta Prima volta Che un ero Sprende danno Dove Mette il market Il 100% E custom dream Ah Si attacca Direttamente Adesso Sì Praticamente Adesso In ogni turno In cui Lui Ah Deve essere Mette uguale Poi Praticamente In ogni turno Dove lui Adesso va a piazzare Il primo Dei suoi due marchi Automaticamente Lui guadagna Un'azione in più In quel turno Anche se Quel marchio lì L'ha messo Di passivo Di passivo E poi Arrivare al suo Turno d'azione Ok Esatto Lui avrà Due azioni Quindi Se avete Abbastanza energy Finalmente Potete scegliervi Due target Se agisce Molto veloce Se agisce Lentamente Anche se vi Fregano Sul target Passivo Avete comunque Un'azione Per segnare Voi Il pg Che volete Adesso Ha la possibilità Di trasformarsi Anche a t1 Addirittura Cioè Si ce la dovrebbe fare Effettivamente È quello che stavo Pensando Servono Le energy Però lo fa In più Adesso Quando ha Marchiato Già due pg Del team Rivale Ogni volta Che lui Subisce Danno Una parte Di quel Danno Va come True damage Sui due Target È quello Che mi Sembra Molto forte Perché comunque 60% È vero che Non può Eccedere Il 30% Di HP Ma Sono alti 30% Non è male Attenzione Non è male Questo RC È fatto Se non L'ho visto Male Magari Il prof Me lo può Confermare Quando Ridistribuisce Questo danno Sono singole Istanze Di danno Quindi Un Anche se non Non si usa Più Un El Seed Piuttosto Che un pg Scudato Con lo scudo Di Shion O Un Di Shura Quegli scudi Lì Vanno via Molto Velocemente È fatto È fatto Molto bene Perché Fa tante robe E anche Parzialmente Un tantino Anti Brilliance Perché La prima Descrizione Quella Non è Roba Da niente Comunque Il fatto Che abbia 10 stack Con cui Incrementa Gli HP Dice Quando Qualcuno Prende Un turno Extra Ergo Probabilmente L'intenzione Era anche Quello Di farlo Un po' Più Tanto Sicura Tanto Se Partono Di passiva Tune Ai 4 Energy Si trasforma Di primo E L'intento Secondo me Era anche Quello Di farlo Un po' Più DPS Io Lo Gioco In Tour Nets Day Che a Volte Mi Stupisce Dei danni Atomici Che è in Grado Di fare E poi Come dice EA Il discorso Del True Damage È Validissimo Perché Ti toglie Gli scusi Sono tutte I stanze Di danno Separate Infatti Se avete Tanato Scontro Lo triggerate 14.000 Volte Nel round È Comodissimo È Forte È Un Ottimo Counter Anche Sebbene Non Solo Di Disci Shura Quindi Assolutamente Un grande Ripper Cloth Quando è Uscito Tutti Quanti Erano Un po' Diffidenti C'è Una cosa Che mi Dovete Dire Però Una Parte Che è Un po' Strana Quell'8% Per 10 Stacco Vuol dire L'80% Del suo Massimo HP Boost Ma Tu dici Sì Sì Gain A 8% Max HP Boost Max HP Boost È Comunque Quelli che ha In game Effettivi Non quelli che ha Sulla carta Il personaggio Sono tanti 80% Cioè Dovrebbe diventare Navica Quasi quanto Persephone Tu pensati Lui giocato Con la Mageshalla Che gli mette Lo scudo Ma anche Con una Persephone Cioè Diventa Mi sembra Strano Che non Ho ancora Sentito Urlare A Tim Cancro Con sto Robo È quello Che mi Sto Stupendo Quegli HP Guarda Solo Se la Persephone Fa Su Di Extra Eh Ok Ma quale PG Ormai Non ha In azione Extra In sto Gioco Persephone Non stai Sentendo Di urlare A Tim Esageratamente Cancro Semplicemente Perché in questo Momento Abbiamo Tanto Danno Shura Già Da T2 Fa Delle cose Che sono Devastanti Che vedremo Nel suo Video Yoma Fa Dei danni Che non Hanno Senso Mai Lui È Un Meta Dove C'è Tanto Danno E Però Proprio Per questo Dico Lui Come fa Non Viene usato A tutti I livelli È comodo Stavo pensando Proprio a quello Cioè In un team Come quelli Lui ti blocca Shura Yoma E tu rimani Col cerino In mano Adesso lo fa Anche con DC Shaka T2 Quando DC Shaka Parte Ancora meglio Il personaggio È veramente Forte A me Fa tanto piacere Perché Oneros Era finito Nel dimenticatoio Sebbene Io L'ho sempre Bannato Perché comunque Irritante Ripper Cloth Assolutamente Giocabilissimo E fortissimo Allora Hai sempre I soliti modi Di giocarci intorno Vabbè È quello È uno fiucco Che mette Ricocchetti Viene marchiata Lei Addirittura Anche con Alondi Lo scamba Se lo marchi Come prima E poi fa danno Si becca lui Il marchio E non E non Un saga O così C'ha aperto il campo Ci sono i modi Di giocarci intorno Come ci sono sempre stati E anche se lo vedi Diciamo Che Shura T2 T3 Ce la fa A buttarlo giù Però ecco Butta giù lui E non butta giù Tutto il resto del team Quando arriva Sembra Mi sembra Un bel RC Mi togli rapidamente Lo scudo di Shura Con lui Con la passiva Quindi Va bene Ottimo Un bel RC Sì Un RC Un RC Un SS Comunque costa L'idea Ma infatti Va bene Sono un attimo Veramente stupito Da questo Perché vedo Che tutti questi RC Che stanno In questa pagina Da Alon A lui Sono ottimi Perché lui No Perché lui Vabbè Tanto Ieri ce l'avrà finito Voglio provare In game Un suo manicolo Forse Forse c'è qualcosa Che si può sfruttare meglio Direi Il 30% Degli altri player Sono molto Molto stupito Perché Veramente Mi sembra Più un nerf Che un buff E mi sembra Veramente Un po' troppo strano L'ultimo Che stiamo andando Lunghissimo Sì Sì Va bene Ragazzi Io vi ringrazio Tanto Questi erano L'IRC Shura Sì Shura Ve lo portiamo In un altro video Perché lo volevo Far vedere Anche in pvp Perché Ho ricevuto Tanti screen Suoi Da varie persone E Voglio vederlo Per bene Con voi Io vi ringrazio Per aver visto questo video Ci vediamo Probabilmente Mercoledì Con il video patch E poi con tutti I video giovedì E sabato Che sarà Uno sarà Shura Ve lo dico Ad adesso L'altro Dipende Se ora facciamo E poi registrarlo Perché Stasera facciamo Quella delle comp Forse ne lasciamo Pure martedì Dipende Ciao ragazzi Ciao